Come si è avverato? In questa serie C bisogna pensare subito alla prossima. Secondo me il primo tempo è stato un po' così e così diciamo, abbiamo iniziato a giocare noi dopo il quindicesimo, ventesimo, abbiamo iniziato a far girare subito la palla come volevamo noi, abbiamo alzato i ritmi, sì sicuramente non abbiamo fatto una partita top, però purtroppo succedono queste partite e dobbiamo andare avanti. Sì, sì, guarda, secondo me ad oggi al Crotone nessuno può dire una parola fuori luogo perché secondo me io e i miei compagni, il ministro della società stiamo facendo veramente un campionato importante, veramente importantissimo perché stiamo facendo veramente bene. Il problema è che comunque davanti abbiamo una squadra come il Catanzaro che sta facendo record su record e quindi magari le nostre partite, i nostri punti stanno passando in secondo piano. Ma secondo me oggi come oggi nessuno può dire niente al Crotone. La prepareremo come abbiamo preparato tutti finora con la consapevolezza di andare lì e vincere come abbiamo fatto in tante partite. Comunque sappiamo di andare lì in un'altra squadra, a Serie C non ci sono squadre facili o difficili, a Serie C è questo, ogni campo che vai è una battaglia e quindi domenica andremo lì per fare punti. Sì, sul punto di vista personale sono veramente contento perché ad oggi nella mia carriera non ho mai fatto tanti gol il girone di andata e tutto quello che sto facendo è tutto merito dei miei compagni di squadra e devo ringraziare veramente tutti i miei compagni.